Allora ragazzi sono venuto negli anni 80 e guardate cosa hanno cazzo creato paura una console con all'interno tutti i videogiochi originali, videogiochi originali anni 80 Allora qua metti i crediti, ma puoi scegliere il gioco? Si certo, per me mi gioco prova, andiamo a scendo? Si, no io voglio quello che prestava a tutti, quello quello, no non era questo, aspetta era un altro che alla fine c'erano uomini giganti che pestavano Uomini Aspetta, proviamo, proviamo, tutta roba che pesta? Si Ok, invio C'è anche il simulatore di azienda vinicola Si trova in commercio Certo C'è altro che... C'è Però devi avere 6 dita, io ne ho 5, ho fatto 6 tasti Ma vai Lo vediamo Il sesto tasto non è per le dita Vai vai, si voglio questo, uno che pesca sangue e potente Le funzioni? Eh schiaccia, tu schiaccia Vai dai vai Si vai vai, che ti spacco tutto Ecco perché abbiamo perso la vista ragazzi No, quella è un'altra roba Ok Adesso creperò in 0, più che 6 Vai 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 che ti spacco, caraglia di merda C'è la mossa segreta? Vai 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 Ah ma ti esce un altro corpo da dentro Cosa vuol dire? Ti esce un altro corpo da dentro Che bel telefono che hai, caraglia Grazie Ma vai che ti spacco, salta, salta Ah, salta pure È uguale Come? Certo che è uguale Incredibile questa cosa Guarda, anche senza mani Vai vai Dai, dai che ti spacco di bordo No, mi sta spaccando No, basta Posso venire a fare un video di 6 ore Va bene ragazzi Comunque ricordatevi Gli anni 80 Trovate la pagina dove la trovate Infatti in questo momento Sono dentro la loro pagina Per dirvi di Di venire qua o di andare là? No, vieni qua Allora, venite Qua? Venite là Va bene O qua o là? Oh, comunque qualcosa lì Io lo voglio Adesso ci mettiamo a posto